Non dovevo fare il video, ma sono qui a farlo, perché alla fine bisogna parlare di una Lazio che ha meritato di uscire, ragazzi la Zed è uno squadrone, è uno squadrone, fa paura, fa paura perché passa in svantaggio anche oggi, ma la Lazio poi non gioca più. Dopo il vantaggio di Felipe Anderson, che fa un gran gol sul suo appoggio di Zeccagni, lei fila sul primo palo dove Ryan non arriva, beh, da lì in poi, sette minuti dopo, Carlson risponde con un gran tiro di destro. Imparabile per Provedel, ma poi un tiro avversario, Maynans, Odgord, Pavlidis, anche lo stesso Reinders. Beccano pali, traverse, incroci. Per tutto il primo e il secondo tempo, finché non arriva, il 2-1 della Zed che mette KO completamente la partita, segnata ancora una volta dall'attaccante greco, che ha fatto un partitone, un partitone, pensare che dopo un gol, grandissimo gol, perché la incrocia, la Lazio aveva appena fatto un triplo cambio per provare a ripassare in vantaggio, è entrato addirittura anche Casale al posto di Romagnoli, forse in ottica derby. Fatto sta che Carlson va ancora nell'uno contro uno con Marusic, con Lazali, perché era entrato. affonda, mette dietro, 10 metri per stoppare per 5, perché la marcatura di Casale era molto larga. Pavlidis controlla e batte Provedel 2-1, ma la Zed, ragazzi, ha rischiato di fare anche il terzo, perché arriva... arriva un'altra parla di Carlson sul secondo palo per Odgord che mette dentro e Maynans prova il gran gol, ma trova male il pallone, la palla esce fuori. e poi un'incursione di Reinders, che prende il palo esterno, quasi incrocio. Quindi, niente, la Lazio poco, la davanti poco, poco. Giusto uscire, giusta. Eliminazione giusta, peccato. Roma dovrebbe essere passata, vediamo un po'. Vediamo un po' in diretta. Sicuramente Juve e Fiorentina sono passate al turno successivo, domani ci sono i sorteggi. Vediamo la Roma che ha fatto, partiva con un 2-0 di vantaggio, ma penso che... è finita 0-0, quindi passa alla Roma. Niente, parentesi europee finita, per ora. Domani i sorteggi, Champions, Europa, Europa Conference League, per i quarti di finale. E niente, Lazio, sei italiani su sette, sono arrivati i quarti, nelle proprie competizioni. La prima a fare le spese, tra l'altro sempre un olandese, come il Fajanord in Europa League, che aveva condannato al terzo posto. La Lazio scese in conference, la SED, la SED è una bella squadra. Like, commento, iscrizione al canale, peccato, peccato. I romanisti godono, giusto, quasi. Però il movimento del calcio italiano poteva fare un gran colpo, portando tutte e sette ai quarti di finale. Però, anche sei su sette è un'onestra cosa. Bello.